Il premio Saturno ogni sera ospiterà spettacoli gratuiti a Piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Si inizierà a martedì 5 settembre con il concerto degli Shackalab, dopo la presentazione ufficiale dell'evento a cura di Stefania Renda, con la partecipazione dello showman Sasa Salvaggio. Mercoledì sera poi il DJ set con Paolo Noiz dello Zodi 105 per la C Summer Party. Giovedì invece Ernesto Maria Ponte e Vittoria Benante daranno spazio alla comicità Made in Sicily. Ascoltiamo l'attore palermitano, presente ieri a Palazzo Dalì durante la conferenza stampa. È solo un modo per giocare con la comicità, intanto quella moderna, contemporanea, visto che ormai il primo Saturno, almeno a me, ha visto protagonista in quasi tutte le edizioni. Stavolta invece stiamo cercando di fare con Vittoria, di condurre questo stand-up Sissidi insieme a dei comici giovani, che sono molto più legati al web, come Chris Clun, Stefano Piazza. E quindi cercheremo un pochettino di portare questa comicità giovanile frizzante. E io, chiaramente Casugno, Chido, Chio e Vittoria, diciamo, è la donna, quindi la bellezza. Io sono la bruttezza e la vecchiezza dello spettacolo, della comicità siciliana. E quindi ci metteremo al confronto per passare una serata, insomma, un paio d'ore di sano e puro divertimento nostro, nostrano. E quindi ci vediamo il 7 settembre a Piazza Vittorio per questa, diciamo, kermesse di, insomma, credo che siano qualche cinque, forse tutta la settimana, insomma, di manifestazioni per il premio Saturno. E noi saremo giovedì 7 a Piazza Vittorio, lo ripeto. Durante la presentazione, fra i protagonisti, era presente anche Giaca, che si esibirà in concerto sabato. Dopo che venerdì ci sarà lo spettacolo in musica dei 40 che ballano 90. Dopo l'artista trapanese, sabato sera poi, sarà il momento di Claudia Giannettino, seconda miglior woman DJ d'Italia agli scorsi Dance Music Awards. Sono tornato a vivere qua dopo tanto tempo, in giro per il mondo. E però è la prima volta che io suono con la band a Trapani dopo una vita, proprio a Trapani Città. Quindi sarà un'occasione, sarà una festa incredibile, perché questa nuova band che ho formato si chiamano The Elimians, cioè gli Elimi in inglese, che sono l'originaria popolazione che abitava queste terre da Seggessa a Derice. E in omaggio alle nostre radici, ho chiamato questa band Elimians. Quindi sarà una grande festa, venite, perché sarà la prima volta che suoneremo con la band, proprio a Trapani Città, in concerto. Quindi spero che sarà anche un'occasione di apprezzare quella parte più musicale del mio repertore e delle mie composizioni. A presto, Jack and the Elimians, Foku, sabato 9 settembre. Grazie.